Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi voglio parlare della MotoGP più bella mai fatta dei primi anni 2000, la Kawasaki ZX-RR MotoGP Il progetto Kawasaki MotoGP è cominciato nel 2001 e Kawasaki ha preso in considerazione diverse configurazioni del motore prima di realizzarlo e ha scelto il quattro cilindri in linea per diversi motivi che si possono assumere in facilità di progettazione e di realizzazione Se ci pensate rispetto a un V4, un quattro linea è molto più semplice sia da fare, da realizzare, da pensare perché è già bilanciato di natura, non ha bisogno di un albero controrotante Infatti dopo un anno di lavoro, modellazione del design, galleria del vento, progettazione, realizzazione del telaio che era un doppia travi in alluminio stampato due Ninja ZX-RR erano pronti per il primo test con il pilota collaudatore Akira Yanagawa La moto viene presentata ufficialmente il 4 ottobre del 2002 in occasione del GP di Moteji, il GP del Giappone e Yanagawa si qualifica in diciottesima posizione ma è protagonista di una caduta e si infortuna anche Infatti per le successive e restanti gare viene sostituito da Andrew Pitt che in quell'anno si laureò campione del mondo super sport, sempre con Kawasaki E quindi per il 2003 viene confermato Andrew Pitt come primo pilota e Gary McCoy La moto viene aggiornata soprattutto di motore e Kawasaki si affida a Dallop come fornitore di pneumatici Nonostante tutto il lavoro svolto durante l'inverno, le due ZX-RR non vanno oltre il sedicesimo o diciottesimo posto Questi risultati saranno la costante di tutto l'anno Alla fine comunque McCoy sarà il migliore dei due piloti e realizzerà solo undici punti in campionato Per la stagione 2004 i due piloti McCoy e Andrew Pitt vengono lasciati a piedi e al loro posto vengono ingaggiati Nakano e Hoffman La moto ha una nuova carenatura, un nuovo telaio sempre perimetrale ma costruito da Suter Kawasaki abbandona Dallop e firma con Bridgestone che è la gommatura più utilizzata in MotoGP insieme a Michelin di quegli anni Nel corso della stagione Kawasaki migliora, ottiene dei risultati migliori, ottiene persino un primo podio in Giappone con Nakano E di quell'anno non si può dimenticare la bruttissima spaventosa caduta a Mugello di Shigna Nakano a oltre 300 all'ora A causa della foratura della gomma posteriore E non riporta ferite gravi per fortuna e il weekend successivo è già in pista A fine anno Nakano è decimo in campionato mentre il compagno di squadra è quindicesimo Kawasaki riesce a ottenere addirittura il quarto posto come costruttore in campionato davanti a Suzuki Per i 2005 Nakano e Hoffman vengono confermati La nuova ninja si distingue per il suo nuovo motore Big Bang al posto dello screamer Cambia l'elettronica, infatti a inizio anno si hanno già dei risultati decenti Nakano conquista il quinto posto ma sarà il miglior risultato che ottiene Kawasaki in quell'anno Un po' di sfortuna dei piloti per i vari infortuni non permettono a Kawasaki di esprimersi Tant'è che il collaudatore subentrerà ai piloti e otterrà lui il miglior risultato di quell'anno per Kawasaki Sotto al diluvio universale di Shanghai dietro a Valentino Rossi Non so se ricordate quella gara, io sì, è stata una cosa pazzesca A fine anno comunque Kawasaki riesce a confermarsi ancora come quarto costruttore davanti a Suzuki E tutto sommato sono abbastanza soddisfacenti come risultati La line up del 2006 sarà costituita da Nakano, Ridley de Pugnier e Olivier Jacques come collaudatore Durante l'inverno si vedono ancora degli aggiornamenti, un motore più potente, un telaio modificato E infatti si riesce a vedere che sul giro secco ci sono dei ottimi risultati Però manca la costanza in gara Tanto che Nakano al primo GP si qualifica terzo ma non riesce ad andare al di là di un settimo posto Il giapponese riesce a fare una discresa stagione, diversi podi, ottime qualifiche ma nulla di più Ci sono altri aggiornamenti durante l'anno, Kawasaki adotta una nuova carenatura studiata in Giappone dagli stessi ingegneri Che hanno realizzato il treno proiettile famoso del Giappone a fine anno Comunque Kawasaki è sempre nelle sue solite posizioni, lotta sostanzialmente per la top 10 Cambia ancora i piloti, Nakano va in onda Al suo posto viene promosso il collaudatore Olivier Jacques insieme a Ridley de Pugnier L'anno successivo è famoso per il passaggio storico dei motori da 1000 di cilindrata a 800 E questo vuol dire una riprogettazione del motore per tutte le case costruttrici E quindi Kawasaki si adotta come l'altra a inserire il sistema di valvole pneumatiche Per raggiungere dei giri più elevati per colmare il gap di potenza rispetto al 1000 Contestualmente Kawasaki si riorganizza internamente, riorganizza tutto il team Sarà un team totalmente giapponese interno Tant'è che anche i telai vengono realizzati in Giappone E le dichiarazioni di inizio anno di Kawasaki sono molto ambiziose Voleva puntare per il 2007 a delle pole position e a giocarsi pod in tutte le gare In quegli anni lì probabilmente abbiamo esteticamente la moto più bella di Kawasaki E tra le più belle di tutte le MotoGP con quel bel verdone molto intenso Ma ancora quell'anno lì mancano le vittorie e mancano i risultati importanti Abbiamo ancora dei secondi posti di De Pugnier Ci sono delle wildcardi famose di West anche lì sotto l'acqua con ottimi risultati ma nulla più Per il 2008 cambiano ancora piloti, viene ingaggiato l'americano Hopkins E quindi la seconda sella se la devono lottare West e De Pugnier Il francese firma per Honda e quindi Kawasaki è costretta a tenersi Anthony West sostanzialmente E Kawasaki nel 2008 fa scalpore perché riporta un nuovo motore 800 Lo cosiddetto Screamer dopo che l'aveva abbandonato tre anni prima Sulla scia del motore Screamer Ducati Però poi comunque durante i test nonostante fosse promosso da John Hopkins Kawasaki decise di abbandonarlo e tenersi il motore cosiddetto Big Bang, motore classico L'americano inizia bene con dei settimi, sesti posti, quinti posti Però poi sarà una stagione sfortunata con diversi infortuni E quindi a fine del campionato non andrà meglio di un quindicesimo o sedicesimo posto A fine anno Kawasaki sembra fare colpaccio acquisendo come pilota Marco Melandri E infatti nel test di fine stagione a Valencia ottiene degli ottimi risultati Però a causa famosissima crisi finanziaria mondiale Kawasaki cerca di tirarsi indietro, ha ormai carta in tavola C'è una sorta di scontro con l'organizzatore Dorna e ne fa le spese sostanzialmente il team Melandri Si chiude qui l'esperienza Kawasaki in MotoGP per ritornare in Superbike con la moto e la storia ai piloti che tutti conosciamo attualmente Spero sia piaciuto e al prossimo video! Spero sia piaciuto e al prossimo video!